Hervé Ghequier e Stéphane Tapponier sono liberi, due giornalisti di France 3, presi in ostaggio una mezza fa in Afghanistan, sono stati rilasciati. La conferma è arrivata dall'Eliseo dal primo ministro François Fillon, che davanti all'Assemblea Nazionale ha assicurato che i due reporter francesi stanno bene e che nel giro di poche ore faranno rientro in patria. Rilasciato anche Rezzadin, l'interprete afghano sequestrato con loro nella valle di Capisa, a nord-est di Kabul, il 29 dicembre 2009. Da allora la Francia non ha mai smesso di mobilitarsi in favore della liberazione dei due connazionali.